Adesso, senza fare accostamenti tra scrittori e scrittori, dobbiamo parlare del romanzo di Nada Malanima e il mio cuore umano. Nada è una musicista nota, in realtà lo è nota dalla fine degli anni Sessanta, ma cos'era prima? Non so se Nada, perché non so se il libro è totalmente o apertamente autobiografico, però cos'era il mondo e le coetane di Nada Malanima prima? Questo racconta il mio cuore umano, nel quale, per quello che sappiamo, è facile sovrapporre degli elementi della vita dell'autrice, un libro in cui c'è protagonista una ragazza che nasce a metà degli anni Cinquanta in un piccolo paese alle spalle di Divorno, un paese che si chiama Gabbro, e vive in un mondo che oggi sembra una favola, un mondo così diverso. Casa senza il gabinetto, le città raggiungibili solo con i Pullman, la televisione che c'era solo nel circolo Arci o Acli, i comunisti e i cattolici che si contendevano la città e anche la sua famiglia, che mi sembrava divisa tra comunisti e cattolici. Un panorama talmente diverso che io vorrei descrivere a partire dai nomi, assai singoli, perché i nomi, i protagonisti o i comprimari di questo libro hanno nomi come Adorno, Mora, la nonna, Lira, Neva, Ronza, Ugarita, e poi Nada, sono tutti nomi abbastanza strani. Eh sì, ma insomma sono nomi che sono esistiti, che insomma che io ricordo appunto della mia infanzia, e diciamo che sì, la storia è un po' la mia storia di bambina, che insomma però è poi anche un pretesto per raccontare tante storie, e quello mi era piaciuto, che io mi ricordo, mi sono sempre sentita raccontare quando ero bambina, e che proprio poi scrivendo queste storie mi sono resa conto di quanto sono state importanti per me tutte queste persone che mi sono ruotate intorno quando ero bambina e con le loro vite, con le loro disperazioni, con le loro fatiche, perché appunto è un periodo molto diverso insomma da quello che c'è oggi, anche a livello così di cose pratiche, insomma che oggi ci abbiamo noi donne e anche altri. Qui appare una lavatrice a un certo punto, ma è una bizzarria. E quindi c'erano queste donne che non si spaventavano di fronte alla fatica, di fronte al sacrificio, di fronte al lavoro, anzi quasi era una cosa di forza per loro, no? Poter essere utili alla loro famiglia, ai loro amici, prodigarsi per gli altri, in fondo la vita in questo paese, nel paese era un po' una famiglia grande, no? Tutti si conoscevano e tutti si aiutavano, no? E quindi io ripercorrendo così un po' nella memoria tutte queste persone con questi nomi strani però alcuni veri, alcuni magari un po' perché chiaramente scrivendo c'è anche uno rinventa un po' anche la realtà, anche se è una realtà per me un po' abbastanza lontana, non proprio vicinissima. E quindi insomma, ripercorrendo appunto queste storie, queste vite, io mi sono resa conto di quanto ce l'ho ancora dentro queste persone, queste storie, di quanto anch'io sono così. Beh, allora, vediamo come. Intanto le donne sono forti. Intanto le donne sono tutte molto forti, sì. Soprattutto per lei la nonna mi sembra una figura forte, la mamma, adesso non so, appunto, adesso parliamo dell'autrice e non di nada, ma l'anima se parliamo perché mi ha detto, c'è anche una vena di malinconia e quasi di follia a volte nelle figure familiari, no? Una vena di dolore, diciamo, di dolore, ma anche di dolore. Il dolore che accompagna un po' la vita di queste persone, funestate, che ne so, da malattie, da stagioni che non vanno bene e quindi hanno dei problemi di vita, risolvere economici, insomma tutte queste storie che fanno parte della nostra vita, insomma, della vita di queste persone. Diciamo, c'è una tragicità forte, c'è anche un po' di magia, c'è un nonno che forse ha ucciso il fratello, sono cose della tragedia greca, in una rissa di gioco muore e della morte di quest'uomo viene accusato il fratello che era, se non sbaglio, suo nonno, perché è un libro con una genealogia, però, insomma, che fa molti anni di galera, poi non si sa se colpevo l'innocente, torna, insomma. Sì, poi c'è pure un po' di follia, c'è il becchino che ama i suoi morti, per cui, che ne so, vive nel cimitero e porta tutti i fiori, mangia tutte le erbe per tenere pulito questo cimitero. Insomma, c'è un po' di follia, di magia, un po' quello che io ricordo e che comunque mi piaceva raccontare di questa atmosfera, insomma, di quando ero bambina. Poi ci sono ricchi e poveri, è molto rigoroso, nel senso anche nella sua famiglia c'erano dei rami più ricchi e più poveri che sembrano quasi non comunicare, lei mi sembra la protagonista, diciamo, è contesa un po' da queste due parti della famiglia. Sì, stavo un po' in mezzo, perché in fondo io ero quella che ero amata anche dai ricchi, mentre in casa mia nessuna dalla parte ricca era amata. Io ero l'unica, forse perché parlavo poco, perché vivo sempre in un mondo un po' mio, un po' staccata dalle cose. E quindi io sono un po' combattuta perché, insomma, in fondo quando vado in queste case belle, dove ci sono i cuscini profumati, dove ci sono le tende, dove ci sono... Cioè, mi fa piacere, no? E quindi, però, poi insomma, tornavo sempre nella mia casa dove c'era tanto amore, ecco, oltre a... anche perché questa bambina in fondo cerca sempre... ha bisogno tanto di amore, di essere amata. Cioè, non gli basta mai. Un po' forse perché ha avuto questa madre un po' folle, un po' funestata da questa grande malattia, da queste cose e quindi ne ha... Una madre che fa poche carezze, no? Sì, appunto, un po' questa... questa durezza che poi non è mancanza di amore, ma proprio un rapporto così, delle cose, della... quasi una paura anche di voler esprimere troppo, insomma, quindi c'è un po' tutta questa lotta nel... E poi c'è la paura della morte, appunto, e quindi questa... si immagina anche di morire, no? Questa morte che la sente sempre vicina, perché la paura di perdere la madre, la paura di perdere gli affetti e quando le persone che uno ama e conosce non le vede più e muoiono perché... Si fa queste domande che poi sono domande che uno si continua a fare anche dopo, non è che... Non c'è dubbio, però lì, insomma, la morte era molto presente, si moriva per poco, tutto sommato, malattie... Senti, lei era anche un po' contesa politicamente, perché, insomma, c'è un ramo comunista, un ramo cattolico... Sì, ma era soprattutto comunista, era la mia famiglia, devo ammettere, perché... Però lei amava molto le suore, forse per questa voglia di essere amata, era molto coccolata anche dalle suore... Io amavo molto le suore, amavo il convento... Sì, sembra che la sua mamma amava a ballare e togliatti, i due grandi amori, togliatti e il ballo, che oggi sembrano un po' contraddittori, no? Sì, ma in fondo poi dove c'era togliatti, poi si ballava anche, perché erano posti dove la gente si incontrava e anche festeggiava, oltre all'idea politica... Ma dicevo che io, sì... Le suore, questa contesa, non diciamo politica, ma culturale... Sì, sì, perché le suore, io amavo molto l'atmosfera che c'era nel convento, dalle suore, che c'era questa atmosfera molto silenziosa, molto la penombra, i passi felpati, questo raccoglimento, mi dava un senso di pace, di serenità e quindi non c'era un fatto religioso, non arrivavo a quello, perché un po' perché ero piccola e poi perché, cioè, ancora nel tempo poi è rimasto questo, in fondo io sono molto... Io quando vado in giro a fare i concerti e vado nei paesi, in tutta Italia, nelle città, le prime cose che vado, vado in una chiesa. Perché nella chiesa trovo, appunto, qualcosa di mistico, appunto, perché siamo in chiesa, ma di misterioso, qualcosa di profondo, che non si può neanche spiegare, che ti dà pace, ti dà il senso delle cose, no? Il senso di quello che succede, l'avvicendarsi delle cose, anche drammatiche, belle, cioè, è tutto naturale, tutto diventa... C'è qualcosa, forse tutte le persone che si trovano lì, hanno un comune sentire, sì. Perché suo padre, soprattutto, era un uomo molto mite, come viene descritto nel libro, è molto legato alla natura e alla terra, fino, insomma, quasi a disinteressarsi, mi sembra, del mondo, aveva più passione per la terra, gli animali e le piante, che non per gli uomini. E lei era un po' legata a questa... Sì, molto, e tutti i racconti, appunto, molto così poveri, di allora, dei contadini, riguardo il tempo, riguardo quello che succedeva, erano cose che, insomma, mi sono rimaste molto dentro e che ho raccontato in questo libro, soprattutto, appunto, oltre alle persone c'è anche molto spazio al contorno di questo paese, no? A dove sta? All'avvicendarsi delle stagioni, quando c'è la neve, le persone hanno un modo di essere, di rapportarsi, poi viene le stagioni belle, le persone si aprono, sembra che non si conoscono, come se non si fossero mai viste, perché proprio è questo cambiamento che poi succede sempre, ogni volta, perché le stagioni sono sempre quelle, succedono sempre le stesse cose, però sembra sempre una cosa nuova, e tutte queste cose, insomma, così erano importanti. C'è sempre, infatti, ogni evento che lei racconta, mi sembra, adesso, a mente, c'è sempre l'elemento meteorologico, piove, nevica quando si sposa sua sorella, per esempio. No, mia madre. Di sua madre, viene portata. Mia sorella fa un caldo. Sua sorella, è vero, fa caldo tremendo, ma insomma, c'è un'attenzione a questa dimensione. Ecco, perché il libro ha molta realtà, è una realtà che oggi sembra, ripeto, è d'Italia prima del 68, proprio preciso, perché lei poi nel 68 lascia Gabbro e diventa poi una cantante, una musicista nota. Però fino allora c'era un mondo quasi bloccato, che sembra cambiare molto, c'è molta, lei è attenta molto alla realtà, proprio di scrivere come era la vita quotidiana, però poi c'è tutta una dimensione fiabesca. Io dicevo dei nomi perché il suo nome porta... Sì, anche il mio nome... Un nome, diciamo, un'origine fiabesca, se l'evento, se la racconta... Infatti, fin dall'inizio, quando appunto ho cominciato a fare il mio mestiere, tutti mi hanno sempre detto, hanno sempre pensato che Nada fosse un nome d'arte. Non conoscono i toscani. E invece no, è proprio il mio nome vero. E poi c'era questa storia appunto che ho raccontato nel libro, che ho sempre sentito raccontare, appunto, che mia madre quando mi aspettava, che era sulla spiaggia, perché Gabbro è vicino al mare, vicino alla costa di Livorno, che era bellissima, è bellissima tuttora. E quindi stava lì e c'era un punto che è passata una zingara e gli voleva leggere la mano, ma insomma, spesso queste persone fanno un po' così, danno un po' fastidio, un po' anche paura, no? Perché stranamente... Allora, insomma, alla fine gli ha letto la mano e questa zingara gli disse che avrebbe avuto una bambina, che gli avrebbe dato tante soddisfazioni, che sarebbe stata una cosa bellissima per lei, avrebbe girato il mondo, insomma, tutte cose. e quindi quando la zingara se ne andò, mia madre gli disse, ma come ti chiami? E lei disse, io mi chiamo Nada. E quindi mia madre quando... Cioè, disse chiama Nada o disse Nada-Nada per dire niente? No, disse Nada-Nada, che poteva essere... Una spagnola... Poteva essere anche un modo di dire, non voglio niente, niente, insomma. Però lei pensò che fosse il nome, e quindi dice, ma se veramente mi nasce una femmina, la chiamerò così? E infatti poi così era successo. Ci sono molti elementi premonitori, c'è una voce forte che lei ha sempre avuto, anche se parlava poco, no? Sì, avevo sempre un voce, anche perché era in contrasto con il mio aspetto, che era molto così, ero molto magra, ero piccola, silenziosa, appartata, un po' scorbutica, dicevano in casa, e quando parlavo, invece tiravo fuori una voce che era un po' più grande di quello che ti potevi aspettare guardandomi e vedendomi, e quindi così ero sempre vista come... quasi avevano anche un po' timore. Poi vedremo come questa voce evolve, ammesso che qualcuno abbia questa curiosità, e non lo sappia già. Senta, prima però... Perché appunto, poi le accadono delle cose, appunto in questo mondo apparentemente fermo, uniforme, appunto fermo con la natura, le case che cambiano lentamente, le famiglie dove si ripretevano generazione dopo generazione, a volte gli stessi drammi, gli stessi conflitti. Per esempio lei a un certo punto in una casa di ricchi vede i libri, a visto che siamo a fare, ne dobbiamo parlare, in casa... Dal Ciabatti, che è il prete, dove sua zia faceva la... Sì, aveva questa libreria meravigliosa. Ogni nome di questi che citiamo poi è legato a delle storie, per esempio il Ciabatti e il prete, dove sua zia diceva che invece era per una delusione d'amore. Cioè tutte grandi tragedie. Però lei vede dei libri, possiamo raccontare? Sì, come no? Io vedo questa libreria meravigliosa, in questa casa ricca, appunto molto diversa da quella dove io vivevo. Per questo era un po' combattuta, era un po' di risa tra i ricchi e i poveri, come dicevamo prima. E allora io, niente, ero attratta da questa bellissima libreria, con questi libri meravigliosi, tutti ordinati, tenuti perfettamente. e quindi io stavo lì ora a guardarli e speravo che da grande anch'io avrei avuto una libreria così. E quindi, perché? Poi c'era sempre questa figura di questo Ciabatti, che insomma girava sempre con questo libro. Insomma, era una cosa importante. Quindi lui era un uomo importante, aveva un libro e i libri erano importanti. E poi io devo dire che da piccola leggevo tantissimo. Proprio così. E c'era anche questo, un altro prete, perché il prete, il convento, anche se la mia famiglia era molto di sinistra, era un posto, insomma, dove potevi trovare... Poi ti racconta, ma insomma, dischiamo, perché sennò sembra Don Camille... In realtà c'era molta convivenza tra questi due mondi, no? Si sovrapponeva, anche se la sera si doveva decidere se andare al circolo Arci o Acli. Certo. Era solo un fatto così. I due mondi convivevano. Assolutamente, certamente, questo sì. Lei faceva catechismo, la mamma diceva un bel po'. Sì, beh, perché poi lo fanno tutti, insomma, nel momento di una parla. Prendiamola però così, con le dovute distanze, insomma, non è che erano proprio bacchettoni, insomma, c'è un po' questa cosa. Tutti si spostavano in chiesa, no? O no? Sì, i battesi, le comunioni si facevano. assolutamente. Poi mio nonno invece, quando era morto, aveva avuto il funerale laico, insomma, con tanto di bandiere e via, e via dicendo. insomma, quindi, Lei leggeva molto? Io leggevo molto, sì. Cosa, fiabe? Non posso dire, eh? Perché un po' di... No, no, a proposito del, anche del quiz che abbiamo fatto, del libro, perché l'ho scelto anche per un altro motivo. Leggeva da bambini, autori, sì. Sì, sui 13 anni, per esempio, io ho letto appunto quel libro. Poi, leggevo, sì, romanzi, libri, insomma, che si trovavano in queste libri. Ah! No, no, c'era questo prete che aveva portato proprio un altro, non il ciabatte, ma un altro prete che era arrivato in paese, aveva portato, che era un grande, un prete molto colto, molto studioso, e che quindi voleva fare, di questo paese, voleva fare, insomma, voleva avere un rapporto con la gente, voleva fare di leggere tutti i suoi libri, aveva portato tutti i suoi libri, e li aveva messi appunto in una stanza lì della chiesa, dove tutti andavano, prendevano libri, e quindi per me fu una cosa, una gioia, perché io amavo leggere, amavo andare a scuola, mi piaceva, perché per me la lettura e la scuola, era un po' evadere da questo, come un po' le suore, come un po' le suore, sì, mi piaceva crearmi una mia realtà, perché spesso quella che vivevo, tutto sommato, non mi piaceva, anche questa osservazione che faccio delle persone, delle vite, della gente, dei comportamenti, non so di quando moriva qualcuno, che tutti avevano paura, e quindi mi trasmettevano questa paura, anche quando, e allora io vivendo una realtà diversa, immaginando, fantasticando su queste storie, che leggevo, in fondo ero più felice, insomma, davo, mi sembrava tutto un po' così piccolo, certe volte, quello che... Quindi era un modo per prendere le distanze, dalla miseria pure, diciamo, dalla ristrettezza, che dobbiamo ricordare sempre, perché stiamo parlando di un mondo ormai, nada scomparso, che non c'erano libri nelle case, poi ero rari. rarissimi, a casa mia non c'erano libri, perché i miei non leggevano, insomma, a parte questo prete, questo prete legato alla famiglia. Anzi, quando leggevo, dava quasi fastidio, ma che fai, perdi tempo, cioè... Senta, come arriva poi la musica, intanto arriva sempre con le solite figure aneddotiche, anche lui il nome è strano, Leonildo si chiamava il maestro. Sì, ma molti nomi sono anche inventati. Sì, vabbè. Perché poi anche i personaggi sono un po'... Che non c'è bisogno di inventare, con i nomi che circolano nel suo paese. Sì, non c'è bisogno di inventare. E' difficile inventarne uno più strano, voglio dire. Ah sì, questo è che è vero. Però no, ma sono anche inventati un po', magari lo spunto, però poi io ho dato anche un carattere, magari ho calcato sul bene e il male della persona, secondo quello che mi sembrava oggi, ripercorrendo nella memoria, quel periodo, quello che era il mio ricordo, le mie sensazioni, magari quello che ho amato, quello che ho odiato di quella persona. Di questo maestro ricorda l'odore di fritto. Di questo maestro ricorda l'odore di fritto. Sì, perché io in fondo vogliavo andare in quella casa a prendere queste lezioni di canto. Ma perché la portavano? Come veniva fuori il talento? Era un sogno di queste persone, perché avevano questa bambina che in fondo per loro aveva un talento, perché comunque qualcosa c'era, perché insomma mi sembra chiaro, evidente. No, e poi in casa mia c'era questo grande amore per la musica, perché avevo, insomma c'era mio padre che era un appassionato di musica lirica, uno zio che era baritono, e poi in un paesino non succede niente, per cui c'erano queste recite, queste cose. Io insomma ero molto partecipavo, era l'unico momento in cui un po' mi liberavo, un pochino entravo in contatto con queste persone, ma quasi con un po' di odio verso queste persone, perché così quando recitavo questi personaggi anche antipatici, cattivi, così era l'unico modo che loro erano attenti e veramente mi ascoltavano, perché poi magari nelle altre cose i bambini non si ascoltano, non ci si sofferma a sentire troppo quello che vedono, che pensano, e quindi questo maestro, cioè per me era, io lo odiavo perché non volevo andare a prendere queste lezioni, non volevo andare, non volevo fare la cantante, ma non è che non volevo fare la cantante, non sapevo neanche cosa voleva dire fare la cantante, ma odiavo proprio andare lì, in quella casa dove c'era questa puzza di fritto con questa madre odiosa, che ti accarezzava, che fastidiosa, io che non volevo tanto il contatto con le persone e quindi, e quindi però poi alla fine il destino era, e quindi mia madre e la mia famiglia invece spingeva, perché era un sogno per loro, perché come tutti i genitori sono orgogliosi del talento della propria figlia, o se qualcuno fa un complimento, così, e non si pensa magari a quello che pensa, fortunatamente quella volta mia madre non ha pensato a quello che pensavo io, altrimenti non sarei qua, Beh qua forse a scrivere sì, forse no, voglio dire a fare, a scrivere scriveva da bambina, o quei racconti che ha pubblicato da Fazzi qualche tempo fa, è questo che si chiama il mio cuore umano, il romanzo non sono le prime cose che ha scritto, da bambina accanto a questa passione per la lettura c'era per scrivere, scrivevo le poesie, scrivevo poesie, non canzoni, non canzoni, poesie, no ma io non c'avevo neanche il giradischi in casa, non c'avevo, non avevo idoli musicali, io non seguivo la musica da bambina, cioè proprio non... Eppure erano gli anni sessanta, Sì proprio non sapevo niente, infatti è vero che quando veni a Roma all'inizio, e incontrai tanti cantanti famosi, allora eccetera, e mi ricordo che le mie amiche quando tornavo a casa, ma hai visto quella, ma chi è? Ma non mi interessava, cioè non era così, non era nella mia testa fare questo, era insomma... E qui siamo un po' alla fine del libro, alla fine di questo mondo, perché il libro finisce con un treno, non so se ha fatto caso o nada, fatto che c'è molta attenzione per i mezzi di locomozione, c'erano delle vespe, poi c'è il pullman con cui si va a Livorno, che è a quanti chilometri? A 14 chilometri, che invece sembrava lontanissimo, quello non cambia, ma allora sembrava lontanissimo, sì sì, allora era lontanissimo, anche perché sono 14 chilometri di curve, è proprio una strada... Però sembrano due mondi, sì due mondi, poi con il pullman, capito, era lunga questa strada di curve, Poi lei andava quasi sempre dai medici, perché aveva dei problemi... Poi sì, era un po' malaticcia quando ero piccola, molto magra, ma odiavo il cibo, non mangiavo praticamente, aveva un rapporto pessimo, per cui ero una bambina un po' complessa. E poi c'è questo treno che mette fine a tutto. E poi c'è questo treno che mi porta via. Nonostante... Forse la citazione di una canzone, ma non mi ricordo. Nonostante io non volessi, però alla fine succede così. Come mai questa storia a un certo punto ha deciso di scriverla? Ma ho deciso di scriverla sinceramente, prima di tutto perché qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, una decina di anni fa, una mia amica mi ha regalato un blocco. Dopo anni che io scrivevo le mie canzoni, avevo cominciato a scrivere canzoni, cosa che non avevo fatto fin dall'inizio, ma un po' per esigenza mia, un po' perché ci arrivi a un certo punto, un po' perché non mi piaceva niente di quello che ormai mi proponevano, eccetera, ho cominciato a scrivere canzoni. E questa era una mia sostenitrice di questi miei testi, questa mia amica. Allora un giorno mi ha detto, guarda, tu devi scrivere, ma non solo le canzoni, perché le tue canzoni quando si leggono non hanno bisogno della musica, come spesso le canzoni se li togli la musica perdono la poesia, o perdono il significato, o si perdono, no? Le tue canzoni no, si leggono tranquillamente come fossero. E quindi secondo me tu scrive, sì vabbè, dico ma ormai è un sogno lontano e così mi ha regalato questo blocco e io tenevo lì questo blocco bellissimo, così lo vedevo, tu l'avevo messo abbastanza a portata di mano. Poi una notte feci un lungo viaggio e a un certo punto mi venne in mente questa storia, anche perché spesso mi dicono sempre, ma come mai tu scrivi queste canzoni drammatiche, dolorose, ma perché non fai questo, ma perché tu non dici questo, ma perché... insomma sono sempre un po', diciamo dalle persone che collaborano con me, un po' criticata, perché io secondo loro non faccio abbastanza le cose che secondo loro dovrei fare, o perché scrivo delle cose così un po' scure, magari sarebbe meglio che le facessi un po' così e io spesso cerco di spiegare oppure neanche è quello che mi viene. E questa è la risposta. E allora un po' mi viene, dico ma allora mi viene questa immagine in questo viaggio, questa notte, e allora dico ma questo, allora ecco perché. E forse ripercorrendo, e poi chiaramente sono state apprese da tutte le storie, non tanto dalla mia, che secondo me non è la cosa più bella, se posso dire così, di questo libro, ma insomma sono anche e soprattutto le altre storie. Sì, per quanto la storia di Nata Malamia sia una storia favolosa, perché una ragazzina con quella storia e poi diventata... Però effettivamente ha ragione, ci sono storie più incredibili della sua. Sì. Quasi un ascoltarice segnala che Nata in slavo vuol dire speranza. Sì. E quindi forse il nome della zinga era venita da lì, non era così nichilista come pensavo. Allora, il romanzo di Nata Malamia si intitola Il mio cuore umano, è stato pubblicato da Fazzi Editore, libro un palio, anche libro del giorno a Farnet soprattutto, potete riascoltare questa intervista sul nostro sito, anche scaricarla in formato mp3, ma tra poco gareggiare per aggiudicarvi questo libro nel gioco di Farnet. a Farnet. a Farnet.